Sì, lo so Alfons, lo so, però avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli per capire se ce la stanno facendo davvero, perché il gioco è vero, loro vogliono, sono degli agonisti, capisco tutto, ma poi la realtà, la quotidianità, la fatica, anche Alessandro, sono un po' in pena per loro e anche per i miei. Allora facciamo così, io ti faccio una promessa, che te li faccio vedere presto, te li faccio incontrare presto, non vedere, incontrare, perché hai bisogno proprio di sentire il loro abbraccio e di vederli e di strappazzarti. Per percepire, no ma non è tanto questo, cerco di capire dagli occhi se davvero ci fanno o no, perché comunque tre mesi sono tanti ed è un, come posso dire, un vuoto affettivo e anche di quotidianità che mi manca. E' giusto anche avere delle dosi di energia, no, come si dice, quindi è giusto avere dei propri rinforzi. Poi qui è cambiato. E lì dentro come va la situazione? Qui è cambiata, è cambiata, avete portato una situazione esterna molto complessa. Sì. Dalle dinamiche della casa. E l'avete inserita qui e questo ha creato un cratere forte, quindi… Come vedi tu questo rapporto tra i due, tra Perla, Greta e Max? Non so, non me ne frega niente. Non te ne frega niente? No. Mi dispiace dirlo, ma proprio non è una cosa che mi… non mi interessa, mi annoia.